ciao a tutti e bentornati a pillole di storia con pop italia con un giorno di ritardo esce la nuova puntata dedicata alla seconda guerra mondiale questa volta tratteremo dell'agosto del 1943 quindi anche questa volta faremo solamente un mese così ci rimettiamo in pari vi annuncio già che la prossima settimana torneremo al martedì perché non ci sarà la live torneremo a fare due mesi cioè settembre ottobre del 1943 ma e ripeto ma tratteremo a parte in una pillola che uscirà già lunedì quindi così uniremo le due cose tutto l'otto settembre perché sarebbe un discorso troppo ampio e so già foriero peraltro anche di discussioni da trattare semplicemente nella storia della seconda guerra mondiale quindi lunedì parleremo dell'otto settembre martedì invece parleremo di settembre ottobre del 1943 come al solito prima di iniziare due cose più una la prima è che se vi siete persi gli scorsi episodi in descrizione trovate la playlist con tutti gli episodi di questa serie fino ovviamente a oggi la seconda è che se invece non volete perdervi i prossimi iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati la terza è che questo è il primo video che esce da quando siete diventati 10.000 e così come ho fatto in community come ho fatto ieri in live vi ringrazio tantissimo perché è una cosa che non mi sarei mai 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 aspettato quindi grazie 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 non perché siete 10.000 ma perché siete in tanti a commentare e a discutere con me di storia che poi è il motivo per cui ho aperto questo canale e ho iniziato questa serie soprattutto da dove partiamo beh agosto del 1943 un pochettino ricalca quello che è già successo a luglio i fronti sono molto simili alcune storie proseguono lo faremo tra poco con l'invasione della sicilia l'operazione aschi altri invece si ribaltano come infatti avverrà sul fronte orientale di cui parleremo dopo partiamo però dalla sicilia nella scorso episodio abbiamo raccontato come si è iniziata l'operazione aschi gli alleati siano sbarcati in sicilia siano iniziate due linee diverse di invasione più a oriente gli inglesi guidati da montgomery più a occidente gli americani guidati da patton entrambi però sono riusciti ad avanzare solo parzialmente gli inglesi sono stati fermati quando cercavano di raggiungere messina dopo la presa di augusta stessa cosa è successa agli americani che hanno sì catturato palermo ma poi sono stati fortemente rallentati dai tedeschi e dico tedeschi non a caso perché negli ultimi giorni della battaglia di sicilia il grosso delle fronte la cosiddetta linea san severino che serviva a tenere lontani gli alleati da messina era tenuto principalmente da divisioni tedesche che erano state fatte a correre molto rapidamente sull'isola e che costituirono la vera linea difensiva in realtà qualche divisione italiana come ad esempio la ossa era ancora in armi ma il grosso delle truppe italiane ormai era pronto alla alla fine di uno scontro che non sentivano probabilmente più neanche loro anche se dell'italia si stava parlando per i tedeschi invece la difesa della sicilia aveva un duplice scopo da una parte era importante rallentare più possibile gli alleati dall'altra dimostrare ai propri alleati cioè all'italia la propria forza la capacità di rispingere ancora inglesi americani era fondamentale per evitare quello che già stava succedendo che già i tedeschi sapevano che stava succedendo cioè le trattative tra badoglio e gli alleati che porteranno poi ma ne parleremo la prossima volta il 3 settembre alla firma dell'armistizio che verrà poi reso noto l'8 settembre la linea san severino come detto era tenuta da forze tedesche che pur sapendo che alla fine la sicilia sarebbe stata conquistata lentamente retrocedevano infliggendo anche sfruttando il territorio che era molto adatto a una difesa danni gravissimi alle truppe alleate avanzanti truppe alleate che non riuscivano in realtà ad impedire ai tedeschi di fare quello che volevano sostanzialmente perché c'era pessima coordinazione tra la flotta e gli aerei tanto che nonostante ormai gli alleati si trovassero a pochi chilometri da messina era iniziata una vera e propria corsa verso messina una gara tra montgomery e patton nonostante quello e nonostante il dominio totale nel cielo e nei mari gli alleati non riuscivano ad impedire alle navi da trasporto di portare rifornimento in sicilia e di portare indietro soldati tedeschi italiani man mano che questi venivano evacuati dall'isola quindi progressivamente giorno dopo giorno il fronte si restringeva sempre di più la linea di protezione si restringeva sempre di più e diventava sempre più difficile per gli alleati avanzare patton ad un certo punto tentò addirittura di prendere alle spalle i tedeschi di fare uno sbarco di prendere vicino al monte cipolla che sarebbe dovuto avrebbe dovuto permettere agli americani di avvolgere i tedeschi in una vera e propria sacca per annientarle poi marciare su messina ma lo sbarco che era stato preparato peraltro in fretta e furia fallì i tedeschi italiani riuscirono a controattaccare inflizzero ancora gravi peri dagli americani e riuscirono a ritirarsi ordinatamente senza venire catturati il 17 di agosto 1943 tutto questo terminerà i tedeschi le ultimi reparti combattenti si imbarcheranno e la sicilia sarà completamente conquistata dagli alleati questo mese e più di scontri però venne pagato a caro prezzo dall'isola venne pagato a caro prezzo perché ancora per tutto agosto continueranno i bombardamenti soprattutto concentrati sulla città di messina che pagherà un tributo altissimo subiranno però dei danni anche alcuni dei villaggi dei paesi italiani che erano stati attraversati dai tedeschi perché purtroppo già ad agosto e ripeto stiamo parlando di quasi un mese prima dell'8 settembre quando formalmente italiani e tedeschi erano ancora alleati già ad agosto inizieranno le prime violenze le prime devastazioni le prime uccisioni ad opera dei tedeschi sui villaggi italiani colpevoli forse di accogliere troppo apertamente gli alleati o colpevoli ai loro occhi di essere dei possibili traditori purtroppo un late motive che continuerà per tutto il resto della guerra fino a 1945 a pagare un pesante tributo però sono anche altre città dell'italia soprattutto dell'italia meridionale che verranno bombardate per tutto agosto per infliggere danni vuoi militari ma vuoi anche al morale in particolare ad agosto ad essere pesantemente bombardata sarà la città di foggia che verrà in gran parte distrutta non è solo l'italia però subire dei bombardamenti nelle scorse puntate abbiamo raccontato di diverse operazioni che il bomber command che peraltro comunemente continua a bombardare le città tedesche sta operando in maniera molto chirurgica sul suolo nazista abbiamo parlato del bombardamento delle dighe sulla lura abbiamo fatto anche una pilola apposta abbiamo parlato la volta scorsa dell'operazione gomorra su hamburgo ebbene questa volta dovremo parlare di un'operazione diversa nella notte tra il 17 e il 18 agosto 1943 fu infatti bombardato il centro ricerche e produzione di penemünde penemünde è noto per essere il centro dove nacquero le v1 le v2 cioè le bombe che venivano vennero poi utilizzate nel 44 nel 45 per attaccare direttamente il suolo inglese insomma i famosi razzi di hitler penemünde era un centro molto importante per la ricerca e la produzione ma soprattutto era molto difficile da raggiungere perché a differenza degli obiettivi di cui ho parlato prima si trovava invece all'interno del territorio tedesco dava dava sul baltico ed era molto più difficile da raggiungere per i bombardieri che avrebbero dovuto attraversare un vasto territorio per poterlo raggiungere per questo nelle ore precedenti all'attacco erano stati simulati degli attacchi civetta cioè alcuni aerei erano stati mandati verso le principali città tedesche avevano sganciato delle sottili striscioline di metallo che già durante il bombardamento di hamburgo erano stati utilizzati per confondere i radar in modo da convincere la contraerea tedesca che i visi sarebbero concentrati gli attacchi e poi i bombardieri invece volarono su penemünde l'attacco fu in realtà solo un parziale successo vennero danneggiati dei centri di ricerca vennero danneggiate delle industrie ancora una volta a pagare il prezzo più alto furono soprattutto i lavoratori che morirono nonostante teoricamente gli inglesi avessero deciso di non colpire le caserme i caseggiati dove questi vivevano ma ancora una volta il bombardamento fu abbastanza indiscriminato in realtà i danni furono molto più limitati si parla di circa due mesi di ritardo nella produzione e curiosamente uno dei danni peggiori che gli inglesi fecero fu a se stessi perché tra i morti vi furono anche dei tecnici lussemburghesi che lavoravano insieme ai tedeschi alla costruzione delle v2 e che in realtà non erano tecnici lussemburghesi ma erano delle spie al soldo dell'MI6 cioè dello spionaggio inglese per intenderci quello di 007 nonostante tutti questi bombardamenti che ormai giornalmente piagavano la germania l'attenzione tedesca era però spostata sul fronte orientale eravamo rimasti la volta scorsa con la sconfitta tedesca nell'operazione zitadella il tentativo di eliminare saliente di kursk di intrappolare distruggere grosse forze sovietiche era fallito ed era costato alla germania un pesantissimo tributo in uomini e mezzi soprattutto ed è incredibile dirlo in mezzi tanto che all'inizio di agosto la germania disponeva in tutto fronte meridionale di non più di 400 mila soldati e non più di 750 800 carri questi carri comunque erano ovviamente molto pochi erano in realtà il cuore dell'esercito perché perché ovviamente un fronte così grande da difendere era difficilmente difendibile solo dalle unità di fanteria che peraltro ormai erano molto spesso fanteria da poco addestrata non la fanteria esperta che aveva attaccato nel 41 e nel 42 quindi l'utilizzo delle riserve mobili soprattutto di carri era fondamentale per andare a tappare le falle laddove i russi i sovietici fossero riusciti ad aprirle i sovietici dall'altra parte avevano teoricamente già previsto un contrattacco vi avevo parlato la volta scorsa la battaglia di kursk era già stata prevista dai sovietici ma era un attacco molto ovvio sovietici che non solo avevano preparato le difese ma avevano in realtà addestrato e preparato una riserva mobile che al termine della battaglia avrebbe dovuto contrattaccare subito i tedeschi per coglierli impreparati l'avevano affidata al generale konev in realtà questa riserva mobile era già stata utilizzata durante l'operazione di tadelle per tappare alcune falle che i tedeschi avevano aperto il risultato fu che alla fine della stessa konev potrebbe portare solo pochi attacchi mettendo comunque sotto pressione i tedeschi questi pochi attacchi però avevano convinto i tedeschi che anche i sovietici avessero bisogno di tempo per riorganizzarsi e quindi tedeschi avevano iniziato a loro volta una ridistribuzione delle truppe un po perché hitler aveva richiesto che una parte delle divisioni soprattutto delle waffen ss fosse riportato verso l'italia dove si pensava che fosse più importante utilizzarle per fermare gli alleati un po perché era necessario andare a rinforzare quel gruppo di armate centro che aveva patito le perite peggiori durante l'attacco di kursk in realtà i sovietici seppur avessero ricevuto meno rifornimenti meno carri armati dalle industrie che comunque anch'esse sotto pressione avevano anch'esse dei limiti ovviamente molto più alti rispetto a quelli tedeschi ma anch'esse avevano dei limiti erano riusciti molto rapidamente a ricreare la propria armata sfruttando soprattutto una delle armi segrete sovietiche cioè la grande capacità dei loro tecnici dei loro meccanici di rimettere rapidamente in linea i carri armati che venivano recuperati dopo essere stati danneggiati venivano molto spesso rapidamente riparati anche sfruttando il fatto che si trattava di carri molto solidi ma soprattutto dall'operato molto noto alle forze militare a differenza di quanto avveniva tra i tedeschi che utilizzavano dei carri moderni come ad esempio il panther o il tiger su cui però c'erano ancora molti dubbi di affidabilità e sul loro utilizzo il 3 di agosto 1943 zukov ordinò l'offensiva contro i tedeschi i cui numeri ve li ho già detti prima i sovietici disponevano di molti più uomini 900.000 ma soprattutto di molti più carri armati 2.800 carri armati tutto questo senza considerare gli aerei il piano di zukov era molto semplice una gigantesca punta di diamante avrebbe dovuto sfondare lo schieramento tedesco puntando verso belgorod prima e kharkov poi se avete già sentito questi nomi è normalissimo perché ormai sono mesi che si sta combattendo in questa zona sono mesi che una volta i sovietici una volta i tedeschi conquistano questa zona tanto che questa sarà anche nota come la quarta battaglia di kharkov ai lati di questa punta di diamante ci sarebbero dovuti essere due altre armate le quali avrebbero dovuto fare una vera e propria manovra di aggiramento per accerchiare più truppe tedesche possibili probabilmente impegnate nella difesa della città il primo sfondamento russo colse come detto completamente impreparati i tedeschi le truppe di konev nonostante le perdite sfondarono letteralmente le linee tedesche e piombarono sulla città di belgorod che venne conquistata già il 5 di agosto l'attacco era stato preceduto e da qui in poi succederà sempre magari non ve ne parlerò più tanto ma tenete la mente era stato preceduto da un bombardamento di artiglieria semplicemente colossale una vera e propria saturazione di artiglieria che aveva scompaginato le linee più avanzate tedesche aveva aperto la strada alle forze corazzate sovietiche da qui in poi diventerà un vero e proprio marchio di fabbrica delle truppe sovietiche utilizzare tutta questa artiglieria per scompaginare le linee tedesche forse perché avevano anche meno problemi di approvvigionamento una volta conquistata belgorod l'obiettivo sarebbe dovuto essere kharkov ma a questo punto iniziarono i problemi per i tedeschi un po perché konev aveva subito molte più perite di quelle che ci si potesse aspettare quindi le sue truppe avevano bisogno di essere rinforzate avevano bisogno di riposarsi ma anche perché i tedeschi avevano iniziato a difendersi in maniera sempre più brutale quando i primi sovietici raggiunsero la città di kharkov il generale mann che la difendeva iniziò a farlo veramente all'ultimo uomo rendendo difficilissimo e soprattutto molto costoso in termini di vita umana equipaggiamento ogni avanzamento ai sovietici i tedeschi molto spesso contrattaccavano per alleggerire il fronte rendendo le avanzate di un giorno la il ritornare indietro del giorno successivo per i sovietici questo ovviamente non era l'unico problema von meinstein quando si era reso conto della manovra aggirante dei sovietici aveva infatti raccolto le proprie riserve in particolare le waffen ss e le stava utilizzando per sfiancare questi fianchi dell'avanzata sovietica indebolendone le punte e danneggiandole sempre di più l'obiettivo per i tedeschi era molto semplice sapevano di non avere le forze per distruggere l'armata però potevano cercare di indebolirla potevano cercare di rendere un'eventuale vittoria molto costosa oppure potevano cercare di fare quello che i sovietici avevano fatto con loro cioè drenare risorse e costringerli anche in una vittoria a subire delle perdite troppo pesanti per essere rimpiazzate e portare ad una nuova offensiva ad un certo punto però ci si rese conto che tutti questi attacchi stavano costando carri anche ai tedeschi i sovietici avevano ancora materiale i tedeschi ne avevano sempre meno la città di carcova a un certo punto era difesa da non più di qualche migliaio di uomini e un letteralmente un pugno 15 carri armati si pensò di ritirarsi si pensò di lasciare la città ma hitler fu irremovibile la città andava difesa e così von mainstein buttò nella lotta tutte le ultime riserve andò a rinforzare con gli ultimi carri tigere panther le difese della città e gli ultimi gli attacchi da parte delle waffen ss questi attacchi costarono tantissimo ad entrambe le parti negli ultimi giorni di battaglia i sovietici ebbero perdite semplicemente colossali colossali che furono ancora una volta più del doppio rispetto a quelle tedesche ma alla fine della battaglia i tedeschi letteralmente non avevano più nulla da gettare nello scontro e pur contro parere di hitler i generali decisero di lasciare la città la quarta battaglia di kharkov sancì la prima vera vittoria dell'armata rossa in una battaglia offensiva tenutasi in estate a differenza di cosa era avvenuto nel 41 e nel 42 quando l'estate era stata ad appannaggio dei tedeschi aveva sancito un cambio netto di direzione i tedeschi a questo punto non avevano letteralmente più truppe e carri per difendere il loro fronte tanto che si iniziò a parlare di ritirarsi indietro verso un fantomatico ostwall di cui parlava hitler e che in realtà non era assolutamente pronto per cercare di accorciare il fronte ed evitare di subire ancora una volta perdite così grandi anche i sovietici però non attaccheranno subito perché anche loro hanno pagato caro questo attacco perché anche loro avevano bisogno di tempo per ripianare le perdite un risultato che queste due battaglie porteranno fu l'effetto opposto che ebbe sui capi militari da una parte hitler diventerà sempre più fanatico dei propri ordini dando ordini sempre più precisi di non arretrare mai ascoltando sempre meno i propri generali dall'altra stalin inizierà invece a fidarsi sempre di più dei propri generali che a differenza di quello che aveva fatto lui negli anni precedenti avevano attaccato al momento giusto e avevano ottenuto delle vittorie da qui in poi la lotta tra l'armata rossa e la wehrmacht diventerà sempre più squilibrata da una parte prima di finire ci spostiamo dall'altra parte del mondo nel pacifico nella scorsa puntata c'era già un po troppa carne al fuoco e quindi vi ho risparmiato l'inizio di una campagna di cui parleremo adesso perché la campagna delle salomone in realtà è già iniziata a luglio il primo attacco venne portato dagli americani contro l'isola di nuova georgia un'isola che era esattamente quella che i giapponesi erano pronti a difendere tanto che avevano portato circa 4 5 mila uomini un'isola che i giapponesi difenderanno in maniera spietata e assolutamente senza preoccuparsi della propria vita per quasi un mese fino al 25 agosto in realtà la superiorità degli americani a questo punto è letteralmente imbarazzante la flotta permetterà di bombardare continuamente le posizioni giapponesi gli aerei ormai sono padroni del cielo e nulla vieta agli americani di continuare a portare truppe sulle isole bisogna capire però qual è una cosa a questo punto i giapponesi letteralmente non hanno più alcuna convinzione che la guerra sulle isole contro gli americani possa essere vinta il loro solo obiettivo è creare una miriade di fortezze in cui sperano di drenare di consumare una dopo l'altra le risorse americane per obbligare l'america alla pace per non subire perite troppo grandi perite che quello pensavano i giapponesi potessero reggere gli americani invece no e questo nonostante tutte le sconfitte nonostante tutte le privazioni questo voleva dire continuare a portare truppe su scogli su piccole isole che ormai non erano altro che fortezze bastiani in attesa dell'arrivo dei dell'attacco queste questo tentativo di spostare le truppe comporterà anche gravi perite sul mare proprio ad agosto ci fu un'altra battaglia navale la battaglia di vella la vella usate il gioco di parole ma l'isola si chiama così a largo di vella la vella una battaglia notturna in cui vennero affondate tre cacciatorpediniere giapponesi e morirono in mare 600 soldati questo piano giapponese però era destinato a fallire a differenza di quello che pensavano i giapponesi cioè che gli americani avrebbero letteralmente conquistato una dopo l'altra tutte le isole i piani americani erano molto diversi abbiamo già iniziato a parlare la volta scorsa da questo momento in poi gli americani seguiranno quello che veniva chiamata la tattica del salto della rana attaccare solo alcune basi per avvicinarsi molto più rapidamente al territorio giapponese lasciando indietro altre basi sperando che queste non avessero più alcuna possibilità di difendersi quando cadde o comunque era pronta a cadere nuova georgia i giapponesi si aspettavano che l'isola poco a nord sarebbe stata la prossima essere attaccata tanto che l'avevano rinforzata con quasi 13.000 uomini invece gli americani sfruttando la loro superiorità nella flotta sbarcarono proprio a vella la vella che era il centro da cui si dipanava tutta la difesa delle salomone questo getterà letteralmente gli altri comandi giapponesi nel caos e nella paura perché un utilizzo di questo tipo delle della flotta rendeva praticamente impossibile la difesa del territorio perché sarebbero stati gli americani a scegliere dove sbarcare e rese ancora più importante cercare di danneggiarne il le navi da trasporto e proprio da qui in poi inizieranno tutti quei processi mentali prima militari poi che porteranno all'utilizzo di kamikaze sia in aereo che in sottomarino per cercare di fermare l'invasione bene direi che con questo abbiamo finito abbiamo un po' recuperato tutto quel tempo che è durata la pillola scorsa è stato comunque come vedete un mese molto molto importante per per il mondo soprattutto dal punto di vista militare la prossima volta come detto torneremo a raccontare settembre ottobre la prossima puntata sarà martedì prossimo ma lunedì ci sarà un piccolo antipastino perché noi di parleremo dell'8 settembre ovviamente dal punto di vista italiano spero che questa pillola vi sia piaciuta io come al solito vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di metterne le loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo domani con un'altra pillola di storia ci vediamo martedì prossimo per parlare della seconda guerra mondiale a presto ciao ciao